Il Duca Nasone, biografia non autorizzata dell'ultimo sovrano estense che parlava in dialetto modenese. E' questo il titolo dell'ultimo libro del giornalista scrittore Sandro Bellei, pubblicato dalla casa editrice Il Fiorino del professor Pietro Guerzoni, che è stato presentato giovedì 20 novembre 2014 al Club La Meridiana di Casinalbo. Il libro racconta la vita di Ercole III, duca di Modena, Reggio e di fatto anche di Massa Carrara, un sovrano molto benvoluto dai suoi sudditi che, forse anche a causa del problematico rapporto con l'ingombrante padre Francesco III, si era dato alla bella vita, non sempre rispettava il protocollo di corte e si esprimeva spesso in dialetto modenese. E' stato il duca più modenese di tutti, parlava in dialetto, amava stare a tavola, aveva anche un amante. A me è piaciuto, soprattutto perché parlava in dialetto. Infatti nel libro io lo faccio parlare in dialetto. Forse ancora più di quanto lui facesse nella realtà. Qualche situazione l'ho inventata. E' verosimile se non vera. Comunque una biografia non autorizzata che permette al lettore di ripercorrere tutti i principali avvenimenti del XVIII secolo. Sì, 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 perché lui parla di suo padre, parla di suo nonno, e quindi parlando di suo padre parla di Francesco III e tutto quello che è accaduto. Sì, è un lungo affresco di vita modenese attraverso questi duchi che purtroppo la città ha dimenticato. E questo per me è davvero un grosso crucio perché hanno fatto diventare Modena una piccola capitale europea. E quindi non capisco per quale ragione Modena non abbia dedicato neanche, non dico un viale, una piazza, neanche una strada. Ci sono molti episodi in questo tuo libro con personaggi sia reali, quindi che tu hai studiato nei libri di storia, sia anche inventati. Sì, siccome ci sono molti nomi, molti nomi e cognomi, qualcuno si riferisce davvero alla realtà, qualche altro inventato. Addirittura uno dei medici di corte di Ercole III si chiama Massimo Varaldi, proprio come il mio medico curante. Poi c'è Giorgio Montossi che è un mio amico. Poi c'è un cantiniere che si chiama Giorgio Cavicchioli. Sì, sì, Giorgio Cavicchioli. A questo punto si parla di osti, di vino, di lambusco. E quindi è inevitabile rievocare Giorgio Cavicchioli. Io ho voluto anche inserire questi specifici riferimenti alla cucina perché amo molto, oltre al dialetto, anche l'enogastronomia e quindi mi ha fatto piacere far sapere come si beveva e come si mangiava corte.